Ciao, mi chiamo Gigi e faccio l'insegnante. Se mi guardo attorno in questi giorni, vedo che il coronavirus ha reso soltanto più drammatica una situazione sociale che era già grave prima della pandemia. Decine di migliaia di persone sono morte di Covid-19, ma centinaia di migliaia di lavoratori pagati in nero, stagionali, precari, piccoli esercenti, piccole partite IVA, hanno perso ogni fonte di reddito. Nelle prossime settimane altre migliaia e migliaia di lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro. Di fronte a questo disastro è importante dire che nessuno deve restare solo, che a tutti vanno garantite condizioni di vita dignitose. Non possiamo farci la guerra fra i poveri, non possiamo scannarci i penultimi contro gli ultimi come vorrebbero i padroni e i razzisti. Dobbiamo invece unire tutti i lavoratori per chiedere più soldi per non morire di fame adesso e per avere un lavoro sicuro e dignitoso domani. I soldi che il governo e l'Europa hanno stanziato non bastano. Bisogna andare a prenderli dove ci sono i soldi. In Italia con una tassa per quel 5% di ricchi che hanno un patrimonio superiore al milione e che possiedono oltre il 30% della ricchezza complessiva. In Europa firmando la petizione del partito della sinistra europea, che è trovata anche sul sito di rifondazione, che chiede che la BCE smetta di dare soldi gratis solo alle banche e che finanzi gli stati a fondo perduto e senza interessi.